Benvenuti in un nuovo video e benvenuti nel quinto video assaggio Io direi di non perdermi i chiacchi, tanto che ormai diciamo sempre le solite cose e direi di iniziare subito Iniziamo con una bobbazza Ok Perché ho paura che non riusciamo più a gustarcela Sì Allora, primo pezzo Reeses snack cake Reeses snack cake All'interno ce ne sono due Quindi supponiamo che sia sempre Cioccolato e burro da rachidi Sì, in parte si è scritto Made with real milk chocolate Formato bocetano Vediamo un po' come si presenta Non sarà Ok Sono così Aspettate C'è un profumo Il burro da rachidi Ne prendo uno e le spacco Molto, eh Oddio mi aspettavo qualcosa di diverso Eh, perché le vedi più grandi Esatto Mi aspettavo qualcosa torta Ok Tipo barretta Non ti piace? Non ti piace? Io perciò forse perché mi piace Che non senti tanto Il gusto Classico Ma secondo me è come i brownie L'escluso Il gusto classico Del Reese's Sotto Mi sembra tipo brownie Perché ho detto Sotto Però ha tipo Come se fosse Sotto il gusto del brownie Allora A me è piaciuto Cioè Buono Però Allora Sono sincera Mi aspettavo qualcosa in più Anche esteticamente Non mi sarei mai aspettato Una tavoletta Cioè Diviso in barrette Non lo so Lo sai cosa mi aspettavo Proprio come se fosse Proprio un dolce Proprio Qualcosa di morbido Non so Il burro d'alachidi Non si sente tanto Anche perché Proprio Quindi alla fine È solo cioccolato È questo Cambio di consistenza Sai cosa avrei fatto Tipo Veramente il burro d'alachidi Non l'avrei reso Proprio salato Perché visto che c'è Molto dolce Sì Quindi non è che Mi ha proprio Buono però Ecco Buono ma Tipo io esteticamente Non lo aspettavo diverso Mi aspettavo Un dolce morbido Cioè Non lo so Ma perché la Mi aspettavo qualcosa Però è buono Dai Io un bel sette e mezza Io lo do Per me Un sette Adesso possiamo dire Ogni quale volta Perché ultimamente Vediamo tutte queste foto Quello l'ho provato Quello l'ho provato Anche questo L'abbiamo provato Un momento Timber Questo Io qualcosa Mi hanno detto Eccolo qui All'interno c'è La nocciola Io presumo Io penso sia Un buono Sì Io presumo però Di solito è sempre bianco Lo vecchio dentro Molto e la mente Non mi sono usciti Tanti questi diversi Però io presumo Che sia un po' Di un canale Il primer buono È molto bella Vedete Verde Anche il mio è bello Sono tutti verdi Piccolo Sono stati fregati Anche se Non buono Però Io così Siamo state fregate Però all'interno Non è lo stesso colore Il sapore È l'interno Del Kinder Buen Anche perché Poi tiene pure queste Che cosa Le lucidiane Aspetta Buono per me Sempre dieci Perché è È imbattibile La cosa che io Non ho mai visto Tuk Tuk Ma come potevano essere Questi Tuk Ovviamente Sour cream E onion Cioè Siamo organizzando Il fatti del Sperituno Sweet chili Chili E Sour cream E sale marino Ci mettiamo E mettiamo Questo Sluge Odore Panosima Un po' di erba Un po' di erba Il salato Il salato Mamma mia Wow Buonissimo Un po' di erba Un po' di erba Un po' di erba Guardi Ti senti salato Te lo senti salato Madre In cima Begono E' il mio preferito Ho avuto anche dieci Nove e mezzo Dieci Ci sta Ok andiamo con la bevanda Bevanda Sì sì E poi gli metti migliore Fanta Passion o fruit No Dragon fruit Dragon fruit Fanta Dragon fruit Spero non ci siano i semis Quasi strane Dentro Non vivo la phanta No Più scura Più scura Ma questa secondo me Si sente però un po' Anche se io non l'ho mangiato Andrò con fruit Anche io un po' L'ho però No No Sembra mangi Brava Sai che sembra Quando ti puoi un litro d'acqua Ci metti tre Bustine di bolero No mi piace proprio No il retrogusto L'odore Wow Il retrogusto non mi piace tanto A parte che è dolcissimo Cioè si sente che è aranciata Però ti lascia alla fine Questo retrogusto Che non riesco a capire Sì molto forte No non mi piace No non mi piace Quattro Tre Quattro E' un gentile omaggio Che abbiamo trovato Se avete visto il video Su domanda Lo stavo già dicendo io Dove Secondo voi Secondo voi Chi ci ha inviato Questo omaggio In quale ordine l'abbiamo ricevuto Che cos'è? Eh? Vadovi vedere Eccoli qui Eccoli qui Che lo fanno a gusto cioccolato Abbiamo provato qualcosa di questo Maggio Sempre provando Vaniglia? Puglia al cocco Cocco? Questo è cioccolato fondente Tu non mi piace Se è cioccolato fondente Se è Maggie Maggie No vi No vi 3 ore per aprire La sua Bista Bista Mamma Lui Fatto Il marcello A Vadoo Vadoo Fato 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 Vadoo Soy per il pandino patinino ho paura non è potente sicuro che proviamo questi e non io mi cado pezzotti no pure quelli che ho provato mi ricordavo che era la confezione è pure io però con il cocco le panni comunque non vuole no è altro peggio all'inizio mi sono fatto un po questo biscotto puri tipo al volo così un omaggio gradito dai ci sono siamo a un'altra cosa sempre a tema per il nostro amore per il messico mexico allora questi della ombre nachos and dip al pezzo sia cedda dopo che il formaggio si vede pratica questa salsina qui c'è proprio buttati così io sento più plastica che ancora questi peperoni ma vedo già faccio più ancora questi peperoni ma vedo già faccio più a mezzo troppo a mezzo troppo a mezzo troppo a mezzo caldo c'è quella consistenza oleosa e bocca abbiamo capito che le tarte così non le dobbiamo rendere non manca patadine ma lascia è troppo aromatizzato ma forse non è normale no non è male sinceramente preferisco quello altro formato il penultimo che abbiamo provato quello lì con quella salsina rossa quella era buonissimo ah quella le patate non sono male cioè non sono le migliori però che buone è l'aroma troppo forte no io gli do un 5 e tu? è pure per me pensavo molto meglio no mi sono rovinata solo la bocca ok con questo piccante in bocca vi lasciamo mi sembra amaro in bocca quindi noi speriamo che comunque anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao